Nel momento in cui l'ho controllata mi sono visto il difensore addosso, pensavo di essere in netto fuori gioco e quindi non ho avuto la prontezza di un attaccante. Per il resto la partita che dovevamo fare, noi dobbiamo affrontare le partite lottando, cercando sempre di esprimere quello che ci chiede il mister, di non giocare con questa palla lunga perché non siamo una squadra che gioca così e non ci sappiamo giocare. Purtroppo non abbiamo vinto, ma non abbiamo nemmeno perso. Iniziamo da oggi un campionato che ci porterà a fare tantissime partite in pochissimi giorni, poco recupero, però ce la dobbiamo fare perché abbiamo tutti i mezzi per farlo. Oggi rispetto ad altre partite però è mancata una certa lucidità nell'ultimo passaggio. Quando giochi con una squadra tutta là dietro fai fatica, puoi giocare pure con una squadra di eccellenza, se non si mettono lì in un supernome dal campo fai fatica con chiunque. Se poi trovi il gol, di conseguenza loro devono aprirsi per riaquantare la partita e magari c'è ancora qualche altra occasione in idria, ma fino a quando non lo fai non si sblocca la partita. Quindi questo è stato il vero problema, però complimenti a loro che sono di qui come una squadra che si deve salvare a fare il loro punto. La nostra testa deve essere a che scienza basta.